Ancora una volta la nostra città ha visto riflettori puntati da una trasmissione nazionale, Report, che ha evidenziato l'emergenza idrica in Sicilia, in particolare nella nostra provincia, che viene decisa da Sicile Acque, che gestisce il servizio. In particolare la TV nazionale ha fatto vedere con testimonianze dirette ai cittadini che l'acqua corrente arriva siano due volte alla settimana per poche ore. Si è documentato anche la fontana di Bonamorone, dove ancora gli agrigentini vanno a rifornirsi di acqua. Da qui anche la testimonianza di un ultraottantenne che con i bidoni, nonostante l'età avanzata, si porta l'acqua a casa. Sulla crisi idrica di agrigento, dice lo suo anche il presidente dell'Associazione Turistica Domenico Vecchio, ci troviamo a fronteggiare una situazione che ci vede fortemente danneggiati. Da una parte siamo costretti ad approvvigionarci di acqua, acquistandola autonomamente con turni di attese estenuanti. Dall'altra dobbiamo fronteggiare continue cancellazioni di prenotazione. Anche l'ex assessore al comune di Agrigento interviene su tale problematica, ed è Francesco Picarelli, l'attuale responsabile di Federalberghi Sicilia. Non risparmia nessuno, non risparmia i cittadini, non risparmia neanche le attività commerciali, che con l'acqua, servizio fondamentale da offrire ai nostri turisti, naturalmente scarseggia nei nostri rubinetti e quindi ci mette in grossissima difficoltà. Gli alberghi magari un po' di meno rispetto alle strutture turistico-rigettive, perché bene o male le strutture organizzate in qualche modo si sono attrezzate per far fronte a questa crisi. Ma sicuramente la mancanza o comunque le difficoltà del centro storico, dove ci sono tante strutture turistiche o ricettive extra-alberghiere, dove la rete idrica sicuramente fa acqua da tutte le parti, sono assolutamente in grossa difficoltà e questo naturalmente si ripercuote anche e soprattutto sul nostro lavoro. Si parla di fuga di turisti dalla città per mancanza d'acqua. Più che fuga di turisti ho notizie di qualche collega che ha dovuto riproteggere le sue prenotazioni in altre strutture perché si è trovato materialmente a secco di acqua e quindi questo naturalmente ha messo in difficoltà e non è sicuramente un bel biglietto da visita per i nostri turisti di dover andare in un'altra struttura rispetto a quella che era stata prenotata. Quindi strutturalmente siamo in grossa difficoltà, siamo ancora a giugno e quindi ci aspettiamo un luglio-agosto di grande interesse per la destinazione turistica, però così assolutamente non va. Fedele Alberghi come si sta organizzando per l'estate che sta per entrare nel vivo? Ognuno di noi sta in qualche modo cercando di inventarsi quotidianamente qualcosa da fare per non fare in modo appunto di arrivare allo stremo. Fortunatamente, ripeto, gli alberghi sono ben strutturati e anche se con qualche difficoltà sicuramente riusciamo in qualche modo a non far percepire ai nostri clienti quelle che sono le difficoltà di fare impresa in una terra anche un po' maledetta come la nostra. I turisti prima di prenotare il soggiorno chiedono se c'è acqua? E questo è il problema peggiore, nel senso che al di là di quelli che sono i problemi che riscontriamo noi e che con grande spirito di sacrificio i titolari di strutture mettono in campo è quella la cosa più brutta, il fatto che chiedono e ci chiedono prima di prenotare se nelle nostre strutture c'è qualche problema. Cosa che naturalmente noi affrontiamo e che soprattutto cerchiamo di rassicurare per quello che possiamo. Ma la verità è che se il 50% del prezioso liquido dell'acqua si perde nelle fondamenta della nostra città qualcosa sicuramente su questa rete idrica si deve fare ed è forse ormai troppo tardi.